buonasera in questo video vi chiesto o almeno da voi particolarmente cliccato dal titolo il silenzio che fa rumore video che andremo a costruire insieme come al solito e che farò come al solito mi defino se non lo stacco ci dà il tormento ma ormai non l'ho staccato costruiremo in due stese due stese contrassegnate da due pietre differenti stavolta quale pietra prenderemo questa volta noi il citrino il quarzo citrino per la prima stesa e l'ametista per la seconda stesa capisco che non si vede l'ametista ma insomma sta qua no vincenzo mi ha ucciso anche stasera allora quarzo citrino e l'ametista il silenzio che fa rumore raccomandazioni di rito non sono interattivi valgo dal momento in cui ne prendete visione quindi se ne prendete visione oggi bene se prendete visione tra un mese tra sei mesi fra un anno da quel momento partendo i famosi tra virgolette sei mesi da proprio da quando si attiva il momento in cui le aprite la presa visione sono interattivi non posso non tutto non potuto calzarvi a pennello mi raccomando prendete solo quello che vi risuona perché se siete in questa stesa significa che qualcosa dovete ascoltare questa stesa fin dall'inizio del video vi invito a mettere il like ma insomma e dopo di che a iscrivervi al canale perché ho noto che tantissime persone vedono i video e non iscrivono al canale ripeto la iscrizione assolutamente gratuita anonima e quindi non siete percepiti all'esterno per il resto credo di aver detto tutto o quasi tutto concentratemi chiudete gli occhi e appena riaprito respiro profondo respiro andate dentro ok adesso riaprito gli occhi e guardate dove è caduta la vostra scelta se sul quarzocidino sulla medista io come saluto sarò qualche mazzo di carta e ce l'ho a portata di mano questi per stasera per questa stesa allora cominciamo con un quarzocidino metto qua il silenzio che fa rumore stasera le carte le mettero tutte dal dritto stasera la vostra scelta stasera ler beide stasera le Theatre ha finita di coppia tantissima con questa persona qui c'era veramente un bel rapporto il numero 22 che è un numero molto particolare 22 e due volte 11 molto molto particolare questo rapporto con questa persona vi incastrate perfettamente l'uno nell'altro ma in questo rapporto è subentrata la gelosia di quella proprio terribile qui è venuto fuori qualcosa che ha a che fare con la gelosia che vi ha in qualche modo per qualcuno che è sposato addirittura costretto o fatto parlare di divorzio per qualcun altro vi ha costretto ad allontanarvi o allontanarlo qui c'è veramente come una caduta improvvisa è un grande allontanamento questa persona si è allontanata tra l'altro o voi si è allontanati molto velocemente alla ricerca di un equilibrio che non avevate più per un problema di gelosia sono convinta che ci sia la gelosia nel mezzo una certa rivalità ecco potrebbe essere la gelosia di un'altra persona nei vostri confronti o potrebbe essere la vostra nei confronti quando prima parlo di un'altra persona parlo di una terza persona ok comunque in ogni caso qui il problema principale è la gelosia qualcosa è venuto alla luce ed è successo il pandemonio perché qui c'è il pandemonio si è dovuto scappare o si è dovuti scappare questa è la stesa scappando chiaramente cosa si fa? si sta muti si sta in silenzio qui c'è proprio un'azione di allontanamento molto forte c'è anche una ricerca di equilibrio la ricerca di sanare le ferite del proprio cuore c'è un accangelo Raffaele qui che era messo al contrario sono rimesso dritto però questa sera questo quarto di denari mi perseguito non ho visto in tutti i consulti eh sì eh sì questo silenzio sicuramente fa rumore qui c'è qualcuno che urla la luna addirittura volete questo cane urla questa è una carta molto particolare che qui urla qui c'è proprio una il senso di disperazione quello che io avverto in queste carte è il senso di disperazione la voglia di un messaggio la voglia di ricevere un messaggio la voglia di un chiarimento soprattutto perché ripeto qui qualcuno si è andato di corsa di corsa lasciandovi veramente basite per modo di dire o basiti per modo di dire cioè lasciandovi proprio dandovi le spalle e fuggendo costringendosi anche in un eremo e costringendovi in un eremo costringendovi in una mancanza di emozioni o apparentemente una mancanza di emozioni secondo me è questa persona che si è allontanata che sta cercando di rifugire dalle emozioni e per voi non è così però qua ci sono gli amanti sì avevo intuito che ci fosse una situazione di gelosia da una terza persona comunque soltanto che questa persona che si è allontanata si è allontanata così velocemente senza darvi spiegazioni anche se voi sapete perché è stato causandovi tanto 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 dolore eccolo qua il dolore questo silenzio fa rumore fa rumore nella vostra testa fa rumore nella vostra anima altro che se fa rumore questo è un silenzio che è arrivato improvvisamente quando tutto attorno a voi era luce era fuoco era belle parole era sentimento è arrivato un rumore un silenzio che fa rumore allora qui c'è tanta passionalità quest'uomo o questa donna in ogni caso sono molto molto attratti da voi a parte che essere persone di bell'aspetto le carte vi dicono che dovete solo aspettare aspettate aspettate fermi fermi proprio fermi senza fare niente perché in ogni caso riceverete un messaggio qualcosa si muoverà non vi posso dire che è una cosa che avvenderà domani né forse le prossime settimane un po' più lentamente numero 17 anche questo questa sera ci mi tormenta questa sera è sempre mi tormenta questa è una stessa particolare abbiamo il 22 abbiamo il 17 qui voi due vi sentite anche senza comunicare il silenzio veramente fa rumore fra voi due perché siete due persone che hanno una connessione molto 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 particolare molto particolare voi due vi sentite anche attraverso il silenzio qui c'è un messaggio che vi arriva in ogni caso una comunicazione con questa persona si riaccende se dovete giocare i numeri giocate il 17 si riaccende una comunicazione si riapre una comunicazione non si riaccende si riapre una comunicazione in questa stesa è come se si riapre però dovete essere molto 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 pazienti molto pazienti non poco molto ve lo dico qui c'è chiaramente una persona che aspetta con costanza un'altra che non vuole perdere quello che ha e che quindi deve agire con prudenza questa è la carta base gli amanti che ho detto qui c'è l'amore qui c'è un rapporto particolare qui questa è una stesa molto bella ma la gelosia l'ha fatta saltare qualcosa è stato scoperto il vaso di Pandora si è aperto e qui è successo un po' di casino se si può dire se mi permettete la parola questa era la stesa del quarzo citrino se vi è piaciuto mettete un like se vi siete ritrovati iscrivetevi nei commenti se volete iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video noi la passiamo all'ametista la pietà del sesto chakra mentre quella del quarto ciclo è la del terzo chakra andiamo a vedere silenzio che fa rumore in questo caso l'avevo smazzata e non ritrovata il silenzio che fa rumore primo chakra quarto chakra quinto chakra qui chi più ne ha più ne metta dunque ma io credo che vi siete incontrati nell'ambiente del lavoro o avete a che fare avete amicizie in comune nell'ambiente del lavoro credo anche che economicamente non ci sono grossi problemi in questa stesa credo che ci sia stata una bella connessione ripeto dire ho la sensazione che siete colleghi che vi siete conosciuti nell'ambiente del lavoro proprio di colleghi di un affetto nato fra colleghi di un affetto che ha portato a una bellissima situazione bella proprio poi a un certo punto la comunicazione si è interrotta fra di voi una situazione che era veramente di abbondanza si è interrotta devo capire perché si è interrotta la comunicazione e si è spezzato il vostro cuore il vostro quello dell'altro qui in una situazione che era bellissima a un certo punto non c'è stata più comunicazione anche questa cazza ce l'aveva al contrario quando l'ho presa e anche questa quindi si è proprio come è rotto un rapporto come interrotta la connessione armonica affettiva ed emotiva con questa persona la connessione e la comunicazione e voi siete lì a pensarci a pensare il silenzio che fa rumore è un silenzio proprio perché con un quinto chakra al contrario io ho il chakra della parola bloccato quindi si è proprio un silenzio molte regie di aria in questa stesa aria e acqua qua si è tagliata proprio la comunicazione in un rapporto in un rapporto in cui ci si sentiva troppo coinvolti troppo in cui si è cominciato a pensare se ne valesse la pena si è entrata in una energia di logica però d'altro canto qui c'è tanta passione e anche tanto sentimento quindi non è facile abbandonare il campo non è facile penso che non lo sia per voi ma non è nemmeno per l'altra persona abbandonare il campo però effettivamente qui il silenzio la fa da padrone perché l'ultima carta infatti come vedete è questa qui non c'è comunicazione grande connessione con questa persona qui c'è tutte tutte storie di passioni questa sera tutte storie in cui l'aspetto fisico è prevalente cioè non è prevalente soltanto ma insomma allora io vi dico la verità non vedo un riapprocciarsi immediato di questa persona perché vedo che qua c'è tante lacrime tanta afflizione tanto disappunto qui c'è una situazione che non va proprio non va proprio quello che posso vedere posso intuire che prima o poi ma non subito fra di voi scatterà di nuovo la scintilla del fisico dell'approccio fisico in maniera anche abbastanza improvvisa ma non lo so c'è qualche cosa che non mi convince silenzio silenzio fa rumore qui sì è stato un silenzio magari verrà interrotto per un po' ma poi riprenderà questo silenzio ecco questo è quello che voglio dire queste carte questo silenzio verrà interrotto ma poi riprenderà e vi farà più male di prima alla fine questa persona vi cercherà ma vi cercherà soprattutto un incontro fisico e non è detto che sia sbagliato assolutamente il problema è che però poi tornerà a sparire questo è il problema 4 di coppia aiosa in questa stesa tornerà a sparire allora di santa pazienza si dice voi vi dovete armare di santa pazienza le difficoltà sono tantissime non lo non ne stiamo a dire però se voi continuate a investire in questa storia qualcosa ne esce fuori di buono perché il giudizio come ultima carta qui c'è un rincontro c'è in ogni caso una chiamata e la temperanza temperanza e giudizio assieme bellissime queste due energie energie proprio che ci dicono che qualcosa è un po' più grande però vi dico prima di arrivare a queste carte ce ne vuole ce ne vuole perché qui c'è un entraesci di questa persona questa persona scompare poi a un certo punto ricompare soprattutto per un approccio fisico potete essere voi che ti comparite però questo è il risultato di situazione dopodiché riscompare questa persona emotivamente è molto chiusa non vuole investire più di tanto in un rapporto d'amore in un rapporto emotivo non più adesso però col tempo è destinato in ogni caso a rincontrarvi su un piano che è un po' diverso rispetto a quello che è soltanto fisico ma su un piano un po' più completo adesso sta a voi sapere se siete intenzionati ad aspettare che tutte queste fasi si svolgano o se volete volgere altrove il vostro sguardo io vi dico questa persona è molto attratta da voi che mi è volato e che sotto sotto sta investendo nel senso nel senso anche voi state investendo per certi versi qui c'è proprio qualcosa che cresce d'altronde aveva l'imperatrice qua sotto a fondo mazzo qui c'è qualcosa destinato destinato a crescere destinato a crescere ecco proprio destinato a crescere ma oggi è una situazione dire spinosa è poco perché qui c'è tanto di aspettare c'è tanto di di una persona che tutta una volta si allontana e che però da cui siete veramente perseguitati non perseguitati cioè ossessionati o almeno non riuscite a togliere la testa ecco più ossessionati perché una persona con cui stavate bene molto bene e poi ad un tratto le cose sono cambiate non c'è stata più comunicazione vi dico che questa persona ve la ritroverete davanti in ogni caso nel modo più completo ma dovete aspettare tanto e prima di arrivare a questo modo completo c'è tanta tanta sofferenza c'è tanto entra e esce di questa persona quindi ogni volta che si avvicina può lasciarla andare è sempre peggio ma lui o lei cercheranno di andarsene ok questa è la seconda stesa quella è l'ametista se vi è piaciuto mettete un like se vi siete ritrovati iscrivetevi nei commenti wow se volete iscrivetevi al canale teccate sulla campanella sarete sempre avvisati nei prossimi interattivi e per questa sera vi saluto a presto bye bye